Buonasera gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le notizie di alcuni incidenti stradali. Il primo in ordine di tempo è avvenuto lungo l'autostrada 14 tra un camion ed una moto. Lo scontro tra i due mezzi si è verificato lungo la corsia sud nel territorio di Pedaso. Viste le gravi condizioni del centauro, i soccorritori hanno deciso di allertare l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale di Torrette. L'uomo comunque è sempre rimasto cosciente. Anche nella zona industriale di Chiesa Nuova di Treia, lungo la Cingolana, è rimasta coinvolta una moto che ha impattato frontalmente un'auto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, ricoverato in gravi condizioni anche lui al nosocomio regionale. Tenuto conto della particolare gravità e rilevanza del caso, il procuratore Rastrelli ha reso noti alcuni particolari dell'autopsia sul corpo di Alica. I dettagli nel servizio di Manolita Scocco. È stato causato da un'asfissia violenta con concomitante shock emorragico interno. Il decesso del venditore ambulante nigeriano 39enne Alica, ucciso a Civitanova Marche a seguito di una violenta aggressione dopo che aveva chiesto l'elemosina dal 32enne operaio salernitano Filippo Ferlazzo, poi arrestato per omicidio volontario aggravato da futili motivi e rapina. Ovviamente, come da prassi in questi casi, di ufficiale non trapela nulla. L'ho fatto sapere via preliminare il procuratore di macerata facente funzioni Claudio Rastrelli, in attesa del deposito della consulenza. Serviranno ulteriori prelievi ed esami istologici, ha detto la consulente di parte Francesca Tombesi. Di certo, comunque, si è appurato che dall'inizio della brutale aggressione alla constatazione del decesso è passata quasi un'ora. Un lasso di tempo durante il quale l'operaio salernitano è stato fermato dagli agenti del commissariato su indicazione di un testimone e all'atto del controllo consegnò al cellulare sottratto poco prima ad una persona disse che aveva picchiato. La morte è poi avvenuta per arresto cardiocircolatorio traumatico. Una manifestazione per la pace e di vicinanza alla famiglia di Alica si terrà sabato pomeriggio a Civitanova. I dettagli sono stati definiti dopo una riunione in prefettura macerata. Il corteo partirà sabato alle 14 dalla piazzale antistante allo stadio polisportivo e si concluderà nella centralissima piazza 20 Settembre. Non è un'iniziativa antirazzista ma pacifica e non politica, ha precisato il sindaco della città Fabrizio Ciarapica. Soltanto una lite verbale seppur con toni molto accesi e nessun intervento dei sanitari sia risolta senza ulteriori conseguenze l'accesa lite in un appartamento di piazza d'armi ad Ancona che ha visto protagoniste sei persone tutte note alle forze dell'ordine con numerosi precedenti di polizia ed in condizioni psicofisiche palesemente alterate dall'assunzione di bevande alcoliche. Gli agenti delle volanti hanno contribuito a calmare la situazione. E c'è stato un raid vandalico nell'istituto Cecchia all'interno di Villa Caprilia a Pesaro. Durante un'intrusione avvenuta nella notte appena trascorsa sono state danneggiate le aule, la zona della cucina e il telone del rimessaggio degli attrezzi agricoli e sono state lasciate sui banchi bottiglie di prosecco vuote. Lo ha fatto sapere la provincia di Pesaro Urbino il cui presidente Giuseppe Paolini esprime ferma condanna dell'atto vandalico. Grazie alla collaborazione tra i nostri uffici e i tecnici della scuola ci attiveremo fin da subito per ripristinare i danni annuncia. Ringraziamo le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute dopo la segnalazione. È stato siglato a Fano dalle associazioni dei proprietari immobiliari e dai sindacati degli inquilini un accordo per i contratti di locazione a canone concordato. Lino Balestra. Ci guadagnano tutti sottoscrivendo un contratto a canone concordato. Da quando è stato istituito nel 2004 ogni anno ha registrato una crescita esponenziale di nuovi contratti. I vantaggi per i piccoli proprietari sono di poter accedere, rinunciando all'adeguamento annuale dell'Istat del canone, alla cedolare secca del 10% come tassazione anziché quella prevista del 21%. Gli affittuari viceversa usufruiscono di un canone migliore rispetto ai prezzi di mercato e ottengono anche sgravi sulle tasse comunali. È un contratto importante perché è un contratto che viene incontro alle esigenze dei conduttori e in qualche modo lo Stato riconosce la possibilità di contemperare queste esigenze con un'agevolazione anche fiscale dei proprietari. Quindi sostanzialmente il luogo di Colombo. Riduciamo le tasse ai proprietari in modo che possano accontentarsi di un canone più basso e in questo modo l'inquilino può ottenere un canone sostenibile e non spendere troppo per l'abitazione. Anche le sigle sindacali e le associazioni di categoria applaudono a questa formula contrattuale che ha visto per i tre anni passati il blocco degli adeguamenti delle tariffe. Stessa cosa avverrà anche per i prossimi tre anni. Essendo parte attiva del procedimento, sigle e associazioni devono anche fungere da garanti e custodi dell'accordo ma anche come attuatori della normativa in quanto sia affittuari che proprietari possono rivolgersi a loro per attivare la procedura. Ma anche le amministrazioni comunali possono metterci lo zampino per migliorare le cose come per il comune di Fano che nel caso in cui l'affittuario prenda anche la residenza nell'abitazione locata mette sul piatto sgravi fiscali, un ulteriore 5%. Uno strumento, questo, del canone concordato che mira anche a combattere il fenomeno degli immobili sfitti e della crescente invece domanda di mercato. Ed eccoci alle contraddittorie novità sul coronavirus. Scende ancora il tasso di incidenza accumulativo nelle marche che flette a 816,02 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. C'è il dato inquietante dei decessi correlati al covid che nell'ultime 24 ore sono stati 7 portando il totale delle vittime a 4.039. I nuovi positivi sono stati 1.572 di cui 469 in provincia di Ancona 8 gli attuali ricoverati nelle terapie intensive e 7 nelle aree semi-intensive. Ed andiamo ora a Senigallia per un servizio sul degrado di alcune strutture sportive in particolare di basket. Camilla Cataldo. Un grido di aiuto, una richiesta alla politica locale per fare sport all'aperto a Senigallia. Ci sono pochi campi en plein air e sono tenuti davvero male. La denuncia proviene da un ragazzo di 15 anni di Senigallia appassionato di basket Federico Mallucci che con i suoi amici ama giocare a pallacanestro ma su questo campo non riesce perché ci sono tantissimi problemi e deve spostarsi anche di 30 minuti in bicicletta arrivando a Torrette di Fano o Marina di Montemarciano in una strada un po' sconnesta. Il desiderio è giocare nei playground d'estate quando le palestre sono chiuse. Su questo campo vengono anche giocatori di serie B della squadra locale o anche cestisti di formazione di serie A in vacanza come Andrea De Nicolao. Lo sport nobilita, è sano e per i giovani è un passatempo che tiene lontani da cattive compagnie e dalla dipendenza dagli smartphone. Come potete vedere qua troviamo grandissime buche soprattutto nel pavimento anche dove sono qui in piedi io. Le retine le mettiamo spesso noi ragazzi però nel giro di una settimana addirittura una è durata due giorni settimana scorsa quest'altra è tutta rovinata e diciamo che è l'unico playground dove possiamo venire anche la sera perché è raggiungibile da tutti ma spesso è affollatissimo cioè settimana scorsa eravamo a fare un 7 contro 7 da una parte dall'altra parte in 16 addirittura quindi veramente è una cosa improponibile. Gli altri campetti hanno un solo canestro addirittura sono messi peggio? Sì possiamo trovare quello addirittura Yanna Frank che ha un canestro solo perché uno è stato buttato giù non sono all'altezza regolare e poi sono fatti con delle pavimentazioni veramente terribili ci sono dei buchi per terra che a volte vengono riempiti col cemento che poi si rompe creando voragini ancora più grandi. Quello che chiedi tu è di sistemare questo campetto e possibilmente di costruirne altri? Questo campetto diciamo è proprio un'icona di Senigale cioè veramente penso dall'alba dei tempi quindi se venisse sistemato sarebbe una cosa bellissima poi naturalmente la creazione di altri pre-round sarebbe proprio la ciliegina sulla torta perché siamo tantissimi siamo appassionati e diciamo che trovare altri campetti ci piacerebbe molto. E giocate tutti in una società del posto? Per il 90% giochiamo tutti sì qui a Senigallia poi vengono anche i ragazzi da fuori soprattutto in vacanza che sperano di trovare campetti anche per allenarsi qui a Senigallia ma sfortunatamente non ne trovano. L'assessore allo sport il vice sindaco di Senigallia Riccardo Pizzi risponde così Abbiamo preso atto era già un intervento che avevamo messo in programma già l'anno scorso sono reduci da una riunione con l'ufficio tecnico e il collega Nicola Regine per impostare l'intervento su aree sportive all'aperto come quello presente al Parco della Pace ma anche in altre zone della città. A livello di tempistica quando si potranno vedere dei risultati? Spero il primo possibile anche perché abbiamo ricevuto segnali da imprese locali che sono desiderose di investire sulla manutenzione e il recupero di aree a fini anche di sponsorizzazioni quindi stiamo predisponendo un bando per consentire a chi vuole di poter intervenire aiutando il comune in sinergia. Diego Della Valle lancia un'offerta pubblica di acquisto su Tozza a 40 euro per ritirare il titolo dal listino di Piazza Affari. L'offerta pubblica di acquisto volontario è promossa dalla società interamente detenuta dalla finanziaria dell'imprenditore di Casette Dete ed è volta ad acquistare la totalità delle azioni ordinarie di Tozza non ancora nelle sue mani. Si tratta di una quota pari al 25,5% del capitale che in caso di adesione totale dell'offerta comporterà un esborso di oltre 338 milioni. La Giunta Comunale di Ancona ha approvato il progetto per il potenziamento della videosorveglianza e della città. Saranno installati 40 kit di videosorveglianza con sistemi di trasmissione dati e strutture aggiuntive per un totale di 160 telecamere ed una spesa complessiva prevista di oltre 158 mila euro. Da sabato prossimo le nuove carrozze e bici di Trenitalia saranno in servizio anche sulla tratta nord marchigiana lungo la linea ferroviaria Ancona-Rimini. Andranno ad aggiungersi a quelle entrate in servizio mercoledì 27 luglio in circolazione tra Ancone-Fabriano e Dancone-San Benedetto. Saliranno così fino a 12 secondo le diverse articolazioni quotidiane previste i treni giornalieri tutto bici che copriranno l'intera rete regionale. La Giunta Comunale di Pesaro ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della cavalca ferrovia di via Montegrappa. Dopo Ferragosti il Comune farà il bando per la manifestazione di interesse per arrivare ad ottobre con l'assegnazione delle opere alla ditta spiega l'assessore all'affare Riccardo Pozzi siamo ad una tappa importante per la restituzione a pieno regime di una infrastruttura strategica per la viabilità pesarese raggiunta dopo numerosi incontri con rete ferroviaria italiana che ringraziamo per la collaborazione. E restiamo a Pesaro dove nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il programma della 43esima edizione del Rossini Opera Festival. E' tempo di ROF il Rossini Opera Festival si svela ed è pronto ad alzare il sipario per l'edizione 2022 la numero 43. Si svolgerà dal 9 al 21 agosto con nuove produzioni tra il Teatro Rossini e la Vitrifrigo Arena. Gli spettacoli saranno in totale 43 e quello inaugurale sarà le Comdorì. Fitto anche il programma concertistico con sei appuntamenti tutti a teatro. Il festival non si è mai fermato e continua a essere l'evento clou dell'estate pesarese. Sono stati infine annunciati i titoli del ROF 2023. Daniele Vimini era sicuro che il teatro sarebbe stato pronto e agibile? Sì, c'è stato un grande lavoro naturalmente niente era scontato una grande collaborazione innanzitutto tra gli organismi proposti alla sicurezza e anche ovviamente tutte le maestranze che hanno lavorato a questo obiettivo. allo stesso tempo la sala del pubblico è quasi ultimata e quindi faremo una preview di presentazione per il ROF che torna a casa sua naturalmente e soprattutto è bello vedere il teatro con la platea la bucata dell'orchestra perché per quanto affascinante è la situazione con il palco rialzato e sono tutte le invenzioni anche meccaniche sceniche che siamo inventati nei due anni del Covid però chiaramente è un po' quello che ci si aspetta per il ritorno alla normalità delle produzioni quest'anno due nuove produzioni con il Contorì affidato a Gudeana e l'hotello affidato a Rosetta Cucchi e anche la ripresa della Gazzetta di Marco Carniti che avverrà proprio qui al Teatro Rossini in particolar modo la soddisfazione per un festival che ritorna ai numeri e alle dinamiche che conoscevamo forse anche qualcosa di più con già un risultato sopra le previsioni rispetto ai botteghini ma soprattutto anche un ritorno dai vari paesi del mondo Il calendario del 2023 ci può dare qualche anticipazione? Sì sì abbiamo detto i titoli la premiera assoluta in edizione critica di Edoardo e Cristina che era l'ultimo titolo mancante nella programmazione ufficiale diciamo delle 39 opere di Rosini la ripresa di Aureliano in Palmira che vede il ritorno di Mario Martone e per finire la Adelaide di Borgogna che anche quella si è vista solo due volte qui da noi è importantissimo il pubblico è tutto per noi con le opere che stiamo proponendo quest'anno veramente come abbiamo sentito il pubblico è tornato abbiamo tanti biglietti venduti e devo dire che lo spettacolo che faccio io come cantante è fantastico sarà molto divertente è una opera forse forse la più divertente per me anche come ruolo contori nella produzione rossiniana domani 4 agosto Recanati apre il sipario del Gigli Opera Festival con la Tosca nella celebre piazza Giacomo Leopardi che quest'anno avrà come tema le eroine nel melodramma Passione e Libertà l'altro titolo in programma è Carmen che andrà in scena il 17 agosto novità novità di quest'anno è la collaborazione con l'istituto d'arte di Macerata per la realizzazione del premio Gigli Opera Festival 2022 giunto alla terza edizione ingresso gratuito sino ad esaurimento posti Pesaro da tempo è vicina alla nazionale di basket sorde domenica una gara in ricordo di un grande imprenditore vediamo un progetto per sostenere le ragazze del basket sorde in quella che è la città per eccellenza della pallacanestro domenica 7 agosto alle ore 18 presso il campo all'aperto della parrocchia di San Carlo Borromeo la nazionale italiana basket sorde vice campione olimpica incontrerà l'Olimpia Pesaro di serie C nel primo memorial Giovanni Ranocchi in memoria di un imprenditore di un uomo che si era speso tantissimo per le azzurre silenziali per la palla spicchi l'amichevole sarà l'occasione per raccogliere fondi per la squadra in vista dei mondiali del 2023 a Creta l'Italia ritorna dopo tanto tempo nella città che l'ha vista nascere come una realtà del tutto originale sbocciata poi ad alto livello con l'oro europeo e l'argento olimpico a illustrare l'evento erano presenti il presidente provinciale Hauser Massimo Ciabocchi il vice di Hauser volontariato Pantano Ezio Bracco Arianna Ranocchi main sponsor della Nazionale che domenica festeggia il compleanno Luca Tartaro dirigente Olimpia e Matteo Pandolfi di Avis Pesaro assieme agli assessori Della Dora e Luca Pandolfi il 7 era un numero molto caro a Giovanni Ranocchi Siamo molto legati a tutti gli sport in particolare al basket sword perché veramente queste ragazze hanno una marcia in più hanno una determinazione una grinta invidiabili e sono per noi di grande esempio e quindi ci fa molto piacere essere legati e collegati a loro e sostenerle nel loro cammino che veramente da quando sono partite e mio padre veramente le ha appoggiate dal principio hanno fatto un continuo percorso in ascesa meraviglioso sempre più forti in gamba e un gruppo solido E siamo allo sport la notizia è diventata ufficiale in mattinato dopo 81 giorni dai play-out persi a Viterbo la fermana è stata ripescata in Serie C il Tar del Lazio ha infatti rigettato sia il ricorso del Teramo che quello del Campobasso contro la loro esclusione dal campionato ed il club giallo-blu come è noto era in testa nella gradatoria per il ritorno tra i professionisti ovviamente c'è ora il passaggio burocratico della formalizzazione da parte della Federcalcio ma è soltanto un atto formale domani sarà ufficializzato il nuovo girone B che salvo sorprese sarà composto da Ancona Carrarese Cesena Fermana Fiorenzuola Gubbio Imolese Lucchese Montevarchi Olbia Piacenza Pontedera Recanatese Reggiana Rimini Sandonato Tavernelle Siena Torres Vispesero Virtus Entella e vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 4 agosto Amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà sostanzialmente alta pressione sul Mediterraneo e su Italia quindi situazione tipicamente estiva anche se il caldo tornerà a intensificarsi tra poco vedremo alcuni valori che registreremo nel nostro paese nuvolosità nulla da segnalare le perturbazioni restano ben lontane dall'Italia quindi ripeto giornata soleggiata nel pomeriggio si forma qualche cumulare ridosso delle zone montuose magari anche con qualche breve piovasco ma fenomeni isolati temporalini di calore ecco nulla di più quindi in definitiva giornata di sole un po' di instabilità ridosso delle zone montuose però vi dicevo caldo in intensificazione soprattutto al centro nord e quindi in pianura padana nell'area interna dell'Italia centrale supereremo i 35 gradi con punte già vicine ai 38-40 e stiamo parlando di temperatura all'ombra figurate voi al sole per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo ancora calcio la Vispesor ha comunicato di aver acquisito le prestazioni di Giorgio Cavalli difensore classe 2000 che ha firmato un contratto annuale sino al 30 giugno 2023 ex San Giovannese e Pro Livorno e anche di Thomas Ignacio Sosa figlio di Roberto El Pampa che lo ricordiamo ha giocato in Italia per molti anni tra Udine Ascoli Messina e Napoli anche lui attaccante e si sta definendo nel ritiro di frontone la nuova rosa dell'Alma Juventus Fano di Mister Mosconi che disputerà il prossimo campionato di Serie D sono stati ufficializzati gli arrivi del difensore centrale Cristian Bonacchi proveniente dal Tolentino e la conferma di Mattia Pensalfini Giolle che sarà estremamente utile per il tecnico Granata è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione appuntamento a domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!